Costruire una nuova cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è l'obiettivo del programma strategico per la sicurezza in edilizia della provincia di Teramo. Siamo qui con il vicepresidente del Lance Teramo. Abbiamo redatto questo progetto in collaborazione con l'INA e il Teramo e sarà rivolta come fatto innovativo alle piccole e medie imprese, ma direttamente agli imprenditori anziché ai dipendenti per cercare di fare cultura di sicurezza partendo dall'imprenditore. Il focus del progetto è quello di conoscere le problematiche e le criticità legate alla normativa della sicurezza. Sì, infatti faremo delle interviste a tutti, ripeto, anche imprenditori edili e affini per capire quali sono le criticità che riscontrano loro nell'applicare norme sulla sicurezza. Partiremo quasi da subito con un questionario da dare alle imprese che saranno sorteggiate. Questo accordo viene siglato con l'ANCE, che è l'Associazione dei Costruttori Edili, proprio per puntare su un settore particolarmente delicato, non tanto nel numero degli infortuni che produce, ma sulla gravità degli infortuni sul lavoro. Quindi un'attività che rischia di produrre gravi conseguenze, quindi con costi sociali, costi economici, costi per le aziende notevolissimi. Quindi punta a creare attività formative sul territorio, sia per i neoaddetti e quindi per chi comincerà attività edile nei cantieri, ma anche, e questa è un po' una novità, per le neoimprese. Ma i numeri degli infortuni sul lavoro dell'edilizia sono in leggera flessione dai dati che dava in Abruzzo e a Teramo? Sì, sono in leggera flessione. C'è una riduzione media dell'1,4%. Però, ripeto, nell'edilizia una riduzione è poco significativa perché anche un incidente rischia di essere subito un incidente gravissimo. Bisognerebbe mirare ad un'attività di prevenzione che riesca ad abbattere drasticamente il numero degli incidenti. Grazie a tutti.